Musica Bene, ci tocca adesso trovare la boss rush Dove potrebbe essere? Rana, scarlattite e sfermione per uno Riporta le parole e riempi il piatto mistico di umanità e luce Oh signora, me lo dia pure Oh, ma c'è Coco Buongiorno Coco Questa è la nostra build Probabilmente non sarà la migliore Però voglio pensare che ci farà vincere Siamo passati dal vero 4 spade All'avere 2 spade, 3 spari e un L2 Quindi io Incrociamo le dita e vediamo C'è un rumore estremamente più forte avanti Vuoi proseguire? Qualcosa non va Coco Yo, c'ha qualcosa che non va Mi dai brividi Che poi, come fa a sapere di Coco? In teoria, vabbè, magari si conoscono al di fuori di questo universo Dormi Riposa in pace Dormi Cosa sta dicendo? Sogna di sogni dentro sogni di altri sogni E trova la pace e non svegliarti mai più Che sonno Ma devo restare sveglio Non riesco La prova a tempo finale ti aspetto Sconfiggi una sfilza di boss più velocemente possibile Una registrazione del tuo miglior tempo sarà mostrata nella sezione capitoli del menu report E se hai... ah ecco dove era l'ultimo libro che ci mancava Se vuoi desagerare vince ancora con difficoltà superiore Ho un tempo più veloce per stabilire nuovi record Io spero solo che tu mi dia tutti i punti che mi mancano Round 1 Tempo No ti prego non dirmi che ogni battaglia tu mi fai cambiare le spille No dai Così è troppo semplice Per favore L'importante è che a fine sfida tu mi dia quello che mi serve L'importante è che a sfida e sfida Tu mi dia tutti i punti che mi mancano Perfetto Morto addirittura con il... Con il beat drop Round 2 39 secondi siamo Vai Fuia Non penso che avremo problemi No allora buono il fatto che ti fanno cambiare le spille A ogni battaglia per carità Però così Vanifichi Il senso della prova a tempo Madonna mia quanto ti odio Fuia Ovviamente cerco di concentrarmi Direttamente Su di lui Per il semplice fatto che Sconfiggendo lui In teoria Vinciamo già la battaglia Vinciamo già la battaglia Ah no in realtà Oh no Fuia non conta Cioè conta la squadra Non solo fuia Vabbè Chi se ne frega L'importante è ucciderli tutti no? Sai che mi sa che Ho vinto la spilla Mi sa che abbiamo vinto la spilla Figa Ah però siamo in difficile Vero Fuia Lui Mi mancavano in massimo Non in difficile Era per provarla la prima volta Giustamente farla in difficile Effettivamente quanti scontri saranno Ma Lo scopriremo tra poco Pronto Pronto Di già Eh Fing nota Levi tutta sta roba di torno Maddonna mia Ti sfondo adesso A te Alla tua squadra di coglioni Andata Facile Una volta eliminato Il boss della squadra Gli altri sono Stupidi da fare In realtà è fattibile Come boss Rush Mi preoccupava davvero Farla tutta di una botta Sola Così è È molto più fattibile Ovviamente Ovviamente vorrei Gli appaiono le corna Dai Ci sarebbe piaciuto Sì lo so Sì lo so che questo giro È stata un po' Sprecata Purtroppo Però Almeno ci leviamo Dalle scatole La parte qua Dell'hoteliera Andata Facile Facile Susukichi In realtà In questa forma Ora Mister Mimmo Poi Tsugumi In forma reale Ayano Poi Susukichi In forma grossa Poi probabilmente Shiba Gli uccelli E infine Il grande Uccello Ciao Mister Miao gigante Hello Piki Di già Vieni Madonna mia Se mi sfondo Ah ok Stavo chiedendo Cosa dovevo fare Effettivamente Buongiorno Di nuovo Il buco nero Eh già Dai Parte finale Ma qua Non mi spreco Non voglio usare Il beat drop Lo tengo per la prossima battaglia Mister Miao Era abbastanza facile Tsugumi Era debole al tempo Vero Ah giusto Mi ero dimenticato Di Leocantus Mi ero dimenticato Di Minamimoto Anche perché Dopo averlo combattuto Di nuovo Con la battaglia segreta Non ci stavo Neanche pensando Buono che però Almeno il beat drop Si passa Da battaglia A battaglia Perlomeno Levati Non Non voglio essere catturato Eh stepping to the light All right Shall we listen to you So then what are you gonna do All right That was pretty good I live on the best Well done Ancora Ah Dannazione Speravo già di averla uccisa Pre che facesse sta roba Vabbè All beat drop apposta Ci evitiamo questa fase del cavolo La cosa che mi preoccupa di più Sarà la fenice gigante La fenice mi preoccupa Per un semplice fattore Perché Sarà a due fasi di sicuro Sarà sicuramente a due fasi Che poi dobbiamo combatterla di nuovo Per il finale segreto L'ultimo giorno Ah Gesù Eh my darling Devo ricordarmi Che lei tira Sti schiaffoni Terribili Neanche sti Sta barriere È bastidiosa Veramente Oltre ogni limite Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Mia da lì Perfetto Recuperiamoci Energia e soprattutto Uccidiamola al prima possibile Che questa è l'unica veramente pericolosa In tutte le build che abbiamo fatto Lei è l'unica pericolosa Che ci tira quegli schiaffoni assurdi Poi vabbè c'è sta fase qua finale Che purtroppo non la puoi killare Se non dopo che lei ha fatto la sua cagata Ecco Ecco fatto Andata Molto facile Una manata qua è morta Eccolo Minamimoto Quello che vanificherà Tutto il nostro tempo guadagnato Per via delle sue continue teletrasporti Che c'è E ovviamente la barriera La barriera, sì, l'armatura Guarda che dopo averti combattuto nell'altra fase sei... è una cazzata questa Guarda che dopo averti combattuto nella tua forma più potente questa è una minchiata, Minamoto, veramente Mi dispiace, niente armatura questo giro Dai 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 Niente armatura per Minamoto Dai Dai che muori, dai che muori Guarda che dopo averti combattuto nell'altra forma questo è veramente un downgrade da parte tua Anche se rimani purtroppo sempre un avversario difficile da battere Lui purtroppo è l'avversario più imprevedibile in tutta la battaglia E' veramente Che limone gigante E ilromone gigante Ci ha permesso di caricarci velocemente Qua Ho sbagliato Per fortuna Ha colpito pochi Via da lì Eh lo sapevo Sì 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 È andata bene lo stesso Sì 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 Ti puoi rialzare quante volte vuoi tanto Sono immortale in questa fase Mi spiace per te Sì 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 Andata molto meglio delle prime volte perché sapevo che potevo colpire le corna Ah niente niente uccellini solo l'uccello gigante subito grazie quindi 12 round Sì Sì Iniziamo Shiba Che palle Shiba Quando sei in forma di farfalla e non ti fai colpire Che soddisfazione quando lo colpiamo con quel calcio Quando lo tiriamo via con quel calcio è magia veramente ogni volta E di una soddisfazione incredibile Ma donna mia Mi piace un sacco che poi sia sciocca a farlo perché Mi immagino proprio che gli tiro un calcio dietro nel culo Visto che il suo ex capo Mi spiace un sacco Sì Ah che falle Tipo nego fa che sia Una sola fase però Andato? Dai smettiti di smaterializzarti Oh finalmente Ovviamente Due fasi Per fortuna ci ha fatto saltare Il pezzo in cui dobbiamo combattere Contro i rumori normali Almeno quello No Oh Oh di nuovo sta fase in cui si moltiplicano Ho affrontato boss fight più difficili di questa ciccio Tu sei solo fastidioso Perdonami se te lo dico Shiba Tu sei solo Fastidioso come boss fight Non sei difficile Sei fastidioso perché ti teletrasporti Fai le copie e tutto il resto Ma per tua sfortuna Non sei difficile come boss fight Sei facile da leggere Sei facile da colpire Bel colpo bravo Certo vai 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 Rimoltiplicati di nuovo Che poi ovviamente in sta fase È inutile colpirlo Cioè è meglio provarci anche solo a colpirlo Però siamo in una boss rush in cui Ovviamente Dobbiamo fare tutto Il più veloce possibile Eh di nuovo questa Andata Shiba Dove sto mirando A tutte le tue copie Coglione Oh finalmente è inata Fastidiosa come boss fight Io farei una cosa però contro il piccione Userei proprio la sua sp... E sai cosa? Stupido io in realtà che non ci ho pensato prima Questa spilla contro Shiba sarebbe stata perfetta Perché così colpivamo tutte le sue copie Unica cosa da fare è togliere questa E non lo so mettere una spilla tipo questa Che li possa colpire Visto quante copie delle sue piume fa Almeno la colpiamo Perché lo shotgun non lo prende quasi mai il piccione Ok combattimento finale Ci siamo L'unico che veramente ci ha dato problemi Come al solito Minamimoto Per il resto Relativamente facile E se adesso abbiamo bisogno anche di ricaricarci Abbiamo il groove Cosa Che durante Il primo scontro Col cavolo che avremmo ottenuto Vai Basta? Dijau? Pensavo ci fossero altre piume da combattere qua Anche il piccione avrà due fasi? Speriamo di no Ecco appunto Come essere colpiti dal proprio colpo Bel piccione Ecco appunto Morto? No Altra fase Eccolo lì Non lo sapevo La fase dei piloni di luce Ah no posso colpirti Allora Aspetta Voglio ucciderlo con il Peccato che Per farlo mi abbia allontanato Ah beh ma posso colpirlo Allora No Aveva due fasi Avrei dovuto tenerlo Oh fai A Enfai A C'è Ui Scusatemi se non parlo molto Ma ovviamente Fase finale Per fortuna non siamo mai morti Contro di lei Però sai Meglio non esagerare mai Troppo con la confidenza Meglio non essere mai troppo confidenti Pensi che sia finita E poi La fine arriva sì Ma per te E siamo al 300% Sono molto contento Di nuovo super raggio della morte Che non ci hanno mai colpiti Mai Dai piccione Dai Fase dove dobbiamo schivarti Sì la fase dei super raggi colorati Qua come l'altra volta Meglio Schivare correndo Piuttosto che saltando Gli mancano Tipo 6 o 7 code Se non ho contato male Sì ma tirami fuori una coda Non solo il muso C'è da dire che come boss finale Purtroppo Non è molto difficile È molto A modo suo Più complesso Sushiba Ancora Dai che ci siamo Siamo alla fine ormai Perfetto Dai che ci siamo Niente più barriera Su piccione Spammiamo solo Quell'attacco Bello Dai che non ho più niente Da colpire Mi stai solo facendo Perdere tempo Piccione No Volevo ucciderlo col beat drop Ti prego fammi fare in tempo Fa che ci abbia ancora il tempo per farlo No di nuovo il colpo dei raggi Che palle Ecco qua Evitati tutti Non me ne ha colpito neanche uno Stupido piccione Mi spiace Ma qui Game set E Partita Completata Peccato che lui ogni volta sia lontanissimo Quando usiamo sto colpo E i colpi ci mettono mezz'ora da rivagli Cristo Andata Vai col 27 minuti Madonna mia Ma è stato tutto un sogno Rindo Sei bene Coco stava emettendo delle onde allucinatorie E ci siamo finiti dentro Ah dove sono? Cos'è successo? Tranquilla E' tutto finito Neku Che bella coincidenza trovarti qui Oh povera me Rischi di fare tardi alla svendita Meglio che vada Ciao ciao Quindi non abbiamo combattuto davvero E' stato tutto un sogno Te ne sei accorto anche tu Dopo la battaglia Quella cosa nera attorno a Coco è scomparsa Davvero? Non ho visto niente? Ah no? Interessante Nobile rindo Dobbiamo proseguire O niente spasso Hai ragione Dobbiamo andare Avrei dovuto ignorare il resto Almeno ho estrapolato dei dati significativi Oh Sfermione Oh Lama di Tomonami Bella Ah è rimasta E' rimasto il prompt Ma non c'è più Coco Vediamo la spada di Tomonami Allora che cosa fa 222 di attacco Ehm Non saprei sinceramente a chi darla Però se la diamo a Rindo Per lo meno Quella Scolpo che si propaga Verso tutti Facciamo più danno in una botta sola Più che altro Dove cacchio sono i punti? Per lo meno Per lo meno Per lo meno